La crema Dermastir Protezione Solare 50+, è una crema fluida che garantisce la protezione prolungata dei raggi, prevenendo e ritardando la formazione di macchie o rughe. I filtri di protezione della crema solare Dermastir 50+, sono protetti da calore, luce, ossidazione e microorganismi. Tutto questo lo dobbiamo all'innovativa confezione sottovuoto nella quale è presentata. All'interno della crema Dermastir Protezione Solare 50+, troviamo due tipi di filtri differenti. I filtri chimici conosciuti come i filtri di protezione solare e i filtri fisici, ossido di zinco e ossido di titanio, che formano i filtri UV. Suggeriamo l'utilizzo della crema protezione solare 50+, come antirughe, antipigmentazione in luoghi come il mare o in montagna, post laser, post peeling. La confezione sottovuoto per proteggere la crema dall'ossidazione e dai batteri. L'applicatore monodose impedisce l'utilizzo di una quantità eccessiva di prodotto. Proponiamo la crema solare in due varianti, bianca e nude, come post trattamento medico-estetico. Prima di utilizzare la crema protezione solare 50+, suggeriamo di detergere bene il viso per eliminare ogni residuo di make-up o sebo. Basterà premere la pompa per far uscire la quantità necessaria di prodotto. Come terzo passaggio consigliamo di applicare il prodotto su viso e collo, evitando il contorno degli occhi, con dei leggeri movimenti fino a completo assorbimento. Consigliamo di applicare la crema dermastit protezione 50+, ogni mattina o più volte al giorno se si è esposti ai raggi solari.